Ebbene si ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio della Pixelmon Da quanto tempo non dicevo questa frase, tante tante settimane Ma siamo tornati, tanti voi mi hanno chiesto Marco ti prego dimmi che non si fermerà qua la serie Dimmi che non smetterà la Pixelmon E no ragazzi assolutamente, quindi benvenuti E bentornati in questo nuovo video di Minecraft Ritorno alla Pixelmon, quindi dobbiamo superare i 5000 mi piace Per questo ritorno di Minecraft, per questo ritorno della Pixelmon e per tutto quanto il resto Allora ragazzi, in questi giorni ovviamente non ho registrato per tantissimo tempo E tanti voi saranno preoccupati, vi ho spiegato un po' la situazione Ma tutte quante le varie serie non si sono fermate Piano piano le sono evolute, ho tantissime nuove idee E si ragazzi, guardate nel fondo c'è ancora la casa di Kendal Che il buon Kendal deve ancora vedere Si, gliela mostrerò ragazzi, non preoccupatevi, gliela mostrerò Ma come avete visto dal titolo, oggi noi andiamo a catturare un bel Pokémon leggendario Qua davanti abbiamo due scelte molto importanti ragazzi Perché guardate, qua abbiamo una Rainbow Wing Che è l'ultimo Pokémon leggendario con cui abbiamo catturato Abbiamo appunto utilizzato una Rainbow Wing per evocarlo Ed era Entei Quindi questa potremmo utilizzarla per evocare o un Raiko o un Suicune Quindi voi qua sotto nei commenti, ovviamente dove festeggiare E voi festeggiate in questo momento perché sono tornato sulla Pixelmon Dovete scrivermi anche se volete Raiko o Suicune Mi raccomando, ci tengo molto perché poi andrò a catturarlo per voi Però, se avete notato, qua a fianco abbiamo un nuovo oggetto La Reveal Glass Cos'è questo oggetto ragazzi? Questo è quello che ci servirà oggi Perché in realtà vi ho tenuti nascosti il fatto Che ho catturato un bel Pokémon leggendario in questi giorni di mia assenza Che mo' trovarlo all'interno del box sarà una bellissima sfida Dov'è, 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 dannazione Calma un attimo Fermi un attimo, posso scriverlo? Meloetta, guardate qua che abbiamo Abbiamo questo bellissimo Meloetta E perché ci servirà Meloetta ragazzi? Meloetta ci servirà perché dovremmo spawnare un bellissimo nuovo Pokémon leggendario Magari al posto di Necrozma non lo scambiamo Magari Necrozma all'81 lo può sentire al posto del Tapu Koko Così ci può servire E noi diciamo ragazzi che ci servirà questo Meloetta Perché grazie a questo Reveal Glass Noi potremmo spawnare Tandorus, Landorus o Tornadus Uno di questi tre Pokémon leggendari è catturabile appunto solamente grazie a Reveal Glass E avere Meloetta in squadra E appunto dobbiamo anche trovare una zona dove si può spawnare questo bellissimo Tornadus, Tandorus, Landorus Non so quali, io preferisco Tandorus tra questi tre Però ovviamente voi questioni commentate a scrivere qual è il vostro preferito E tecnicamente se manteniamo la direzione sempre dritta e non mi sbaglio Tecnicamente verso quella direzione dobbiamo trovare appunto il punto segreto Dove poter spawnare questi tre Pokémon leggendari E la vedete quella pila giù in fondo In realtà io ho trovato un posto che ho definito posto strano Perché a quanto ho letto dalla wiki Quella è la casetta appunto dove potremmo spawnare questo Pokémon leggendario Io già voglio andare a catturarlo Perché tanti voi stanno aspettando da tantissimo tempo una cattura di un Pokémon leggendario Io a questo punto faccio così Prendo il mio bellissimo Charizard E vado direttamente alla casetta Ma non solo perché se notate ragazzi Qua oltre che a trovare questa zona qui dove si spawnano questi tre Pokémon leggendari C'è anche un dungeon che solitamente qua dentro nasconde sempre delle chest molto molto ricche Quindi facciamo così Prendiamo la nostra Asha Dov'è che ho da nazione Lo zaino ogni volta si mangia le mie bellissime Asha Allora così dovremmo scendere qua dentro E se non mi sbaglio c'è Uuuuh Nospas Shiny Ma? Allora vediamo un attimino se si è messi bene a Pokéball Ultra Ball Si è messi molto molto bene Perché abbiamo 54 Credo che comunque ci bastino Un altro Nospas Shiny ragazzi Perché vi spiego Queste torri qui sono fatte appunto per spawnare dei Pokémon Shiny Questo è un oggetto che appunto spawnano i Nospas in questo caso come avete notato È già programmato così dalla Pixelmon E in queste torri quindi spawnano questi Pokémon leggendari Questi Pokémon Shiny non leggendari E anche delle chest come un'altra Rainbow Wing Che spettacolo ragazzi Così in questo modo posso spawnare sia Raiko che Suicune Vabbè allora facciamo così ragazzi Qua sotto nei commenti avete scritto Qual è il vostro leggendario propito tra Tornado, Standorus e Purelandorus Che così leggo e lascerò un cuoricino a tutti quanti voi Comunque siamo pronti ragazzi Ci stiamo avvicinando alla nostra nuova bellissima casettina Io non spawno un Pokémon leggendario da settimane ragazzi Sono veramente iper felice di tornare qua sulla Pixelmon E non vedo l'ora Allora non so come funziona onestamente Non so se tipo devo piazzare Questo rivia il glass dentro a questa casettina Non so come funzioni Casetta? Ehi? C'è nessuno? Come funziona Devo cercare di capire insieme a voi E in più qua c'è dell'erba molto strana Ma non l'ho mai vista È un'erba veramente stranissima Che cacchio? Ma spawnano i Pokémon qua dentro? Ah è come l'erba dei giochi Qua c'è una chest Vediamo cosa c'è qua dentro Abbiamo Player of E poi dei nuggets E un mirror Uno specchio Ok Lo conosciamo ormai tutti quanti Perché non va il mio Dark Void Beh dovrebbe Non dovrebbe essere un problema per Landorus Dark Void Dark Void Me l'ha fatto fuori Ma è velocissimo sto Landorus Ok Interessante O ha qualche attacco che magari lo può polarizzare Assolutamente no Lui soffre ghiaccio e acqua Quindi comunque un pochino con O Riusciamo ad abbassarlo di vita È fortissimo ragazzi Allora andiamo di Psybeam Non mi fa fuori vero Neanche io l'ho fatto fuori Ma guardate con quanta vita L'abbiamo lasciato questo Landorus Allora Riproviamo ragazzi Allora andiamo di Ultra Ball Abbiamo con noi anche due Beast Ball Non mi ricordo se abbiamo delle Master Ball con noi ragazzi Non ho guardato nel mio inventario Però dopo controlleremo assieme Comunque ragazzi Questo Landorus è molto forte A parte che adesso abbiamo Necrozman all'81 E due Pokémon al 100 Però Oh non mi fido io ragazzi È veramente bello bello tosto Però speriamo che questo Necrozman possa resistere Allora vediamo Ragazzi ci toglie veramente tanta vita Questa sarà una bella battaglia Ostica Per catturare questo Pokémon leggendario Però so che La vostra forza e mi piace Che state lasciando in questo momento Ci potrà aiutare per bene Per catturarlo Allora Landorus ti prego Noi non vedo neanche la sua Ultra Ball Non so dove cada Non vedo nulla Dov'è la Ultra Ball di Landorus? Magari qua sotto? No Però è uscito ancora ragazzi Dannazione è uscito ancora Non si capisce Non si vede un tubo Ma lui è di dimensioni gigalitiche ragazzi Credo che sia di dimensioni Abnormi Se c'è la definita Eccola qua la Ultra Ball L'ho vista Ok più o meno si intravede qua sopra Se notiamo Proviamo a rivederla assieme Eccola Uno Due No Due giri ragazzi La solita legge dei due giri eh Ci rimangono due Pokémon leggendari Eternatus e Charizard Allora Andiamo ancora di Quanto ci ha tolto? Ci ha tolto tantissimo Ragazzi ci ha tolto veramente tantissimo Dannazione eh Vediamo Stiamo ancora in waiting da un po' È uscito Ragazzi Oh Io voglio catturarlo Questo Landorus Non è che mi può scappare in questo modo Continuamente Dannazione Allora Perché la Ultra Ball Non cade neanche? Perché questa Ultra È super efficace È super efficace ragazzi Ha degli attacchi clamorosi Non entra nella Ultra Ball Landorus non mi possa arrabbiare Per favore Che sono già senza voce Che non registro due settimane Ti prego Entra nella mia Ultra Ball Mi raccomando Rimanici Fatti catturare Che qua dobbiamo È troppo forte ragazzi Che facciamo? Che facciamo? Ci rimani dentro questa Ultra Ball Per favore Landorus Please Dai anche pochissima vita Landorus Per favore Faccia degli attacchi che non hanno effetto Sul mio Charizard Questa è una cosa molto interessante ragazzi Bisogna tenere conto anche di questa cosa Cambiamo un pochino la visuale Sì vabbè ma abbiamo due mostri gigalitici Qua dentro Cioè in una casetta Questi qua la sfondano Guardate qua Landorus Fuso col Charizard È uscito dalla mia Ultra Ball Calma Calma ragazzi Calma La situazione sta facendo bella bollente In tutti i sensi eh Perché abbiamo un Charizard infuocato in casa Che c'è una coda che è più grande Di tutta quanta la mappa della Pixamon Per favore La Ultra Ball Perché ha un effetto Uno Due Raga È un bug questo Io voglio lamentarmi con i creatori della Pixamon Perché guardate la Ultra Ball Gira solamente due volte E lui esce continuamente Allora Uno Due Tre All'ultimo ragazzi All'ultimo eh C'eravamo 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 Riproviamoci Riproviamoci Uno Ancora No Si è auto eliminato Ma no Ma ragazzi Ma si è auto eliminato in questo modo Allora Facciamo così Fatemi riprendere questo mirror Meno male che abbiamo trovato Dobbiamo dare il Flying Jam E Si è auto eliminato Landorus come diamine Ti sei permesso Di auto eliminarti Perché aveva anche pochissima vita In effetti ragazzi Ma dai Ma che sfortuna Da quant'è che non facevo un fail del genere Dallo Zapdos Se non mi sbaglio ragazzi Però fermi in tutto ciò Mi ha appena spawnato un Verizon nelle Plains Eh Non me l'aspettavo Questo Verizon nelle Plains Così un leggendare dopo l'altro Ragazzi Ma che fortuna Allora Dove lo possiamo trovare Verizon L'abbiamo trovato Se vi ricordate In un video con Kendal Ed è spawnato nelle Plains Ok Uh Eccolo Bello Interessante Interessante Verizon Allora Grazie 645 Io ho solo Tornato ancora a piovere Vabbè Io ho solamente Pokémon A parte che non mi fa vedere la battaglia Quindi con molta calma Vado a curare un attimo i Pokémon Devi rimanere qua fermo Mi raccomando Rimani qua Fermo Che vado a curare i Pokémon Ho voluto tenere in squadra Sia Meloetta che ho Perché sono comunque di un livello Più o meno vicino al suo Ragazzi eh Quindi con la speranza Di non far fuori Un altro Pokémon leggendare A parte che comunque Landorus Si è autoeliminato Ok Ragazzi Sono un po' Eh Come dire Fuori Fuori mano Un po' collenato Nello sfidare i Pokémon leggendari Ma questo l'ho eliminato Perché avevo dei Pokémon Di un livello un po' troppo alto Landorus ha fatto una sua mossa Si è autoeliminato Forse non devo abbassarlo così tanto di vita Però Ho una Master Ball Come è? No non ho una Master Ball Devo andare a farmare delle Master Ball Ragazzi Nei prossimi episodi Eh Vabbè Scopriremo assieme ragazzi Oggi purtroppo la cattura Dei Pokémon leggendari È stata veramente molto ostica Però spero che questo video qua Vi sia piaciuto Mi invito a lasciare un bel mi piace E un bel commento Ah Iscrivetevi al mio canale Se ancora non avete fatto uscire Uno dei due video qua davanti E noi Ci vediamo in un prossimo video Mi raccomando ragazzi eh Torneranno uscire due video al giorno Nei prossimi giorni Ciao ciao